Ciao ragazzi, sono Master Wallace, carico, 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 guarda che collo, allora, informissima, informissima, siamo al top, dunque, argomento tecnico, perché faccio anche argomenti tecnici, e reaction ai malanni di Luca Prada, che stamattina mi ha mandato il video, non sapevo nulla, ho visto che Luca è stato male, ha avuto dei guai, ho sentito il video, ho letto i commenti, dirò la mia, ovviamente ne parlerò dopo, ne parlerò dopo, e adesso voglio affrontare questo argomento tecnico molto importante, so che magari voi siete più interessati a quello che dirò su di lui, che non sull'argomento tecnico, perché funziona così, però intanto io non volevo fare, cioè cerco di evitare queste cose, però dato che comunque Luca l'ho conosciuto, lo conosco, anche lui fa le reaction a me, lui, insomma, ma questa cosa la voglio fare proprio perché qui c'è proprio tutto un discorso che voglio fare dopo, comunque, adesso affronto questo argomento tecnico qui, allora, che è questa, aumentare di peso corporeo, è indispensabile per migliorare le misure muscolari? Vedete, sembra una domanda scontata, uno direbbe, ma probabilmente sì, non è esattamente questa, la, così, la percezione che hanno i palestrati, specialmente i ragazzi, perché purtroppo c'è questo mito che deriva dalla scarsa informazione, dalla realtà, che si può migliorare muscolarmente, di misure, insomma, senza aumentare di peso, soprattutto senza ingrassare, rimanendo belli definiti, però mettere su tutti i muscoli, no? Cioè, uno ha l'idea che allenandosi diventa grosso, tutto bello definito, perché molti dicono, bisogna costruire il muscolo lentamente, così crescete solo di massa magra e costruirete il vostro corpo muscoloso, magro, senza ingrassare senza aumentare troppo di peso. Ecco, questa cosa qua è nel culturismo naturale ed è tutto impossibile. Allora, perché è impossibile? Andiamo un attimo con ordine. La prima cosa che dovete capire è questa. Per costruire tessuto muscolare nuovo, ex novo, no? Derivante da stress muscolari molto importanti, quindi l'allenamento che crea stress e quindi c'è la supercompensazione, eccetera, eccetera, è necessario essere in un contesto calorico superiore al vostro mantenimento. Non c'è altra via. Se voi mangiate in modo che quello che mangiate è esattamente quello che più o meno vi serve, che poi è impossibile calcolarlo, cioè se uno pensa di calcolare quanto gli serve in una giornata, compreso l'allenamento, questo e quello è impossibile. Si può fare una stima approssimativa, ma non sarà mai esatta e poi ogni giorno può variare dal basso all'alto, è impossibile calcolarlo. Ma se voi tendete a stare, diciamo, più sul basso perché appunto non volete ingressare, sostanzialmente non succede niente, perché l'organismo per costruire, per rimediare agli stress, andare a costruire ex novo, nuovo tessuto muscolare, ha bisogno di energia in più, non quella che gli serve per uno stato di omeostasi, di equilibrio, ne ha bisogno in più, è chiaro, se no non ce la fa, perché è uno sforzo extra che gli viene richiesto, se no lui non farebbe niente. Quindi un vuoto metabolismo dovrà lavorare di più e bisognerà fornire di più, ovviamente più calorie, soprattutto in termini di carboidrati. Siccome questa cosa da calcolare è impossibile, non si può crescere al millimetro, il gioco forza risulta che dovrete per forza mangiare più del vostro mantenimento calorico, per avere questa quota in più, se uno volesse quantificare generalmente si parla di 500 calorie in più, ma anche qui è una stima che stende al basso perché a volte probabilmente è necessario anche di più, quindi si tende anche a stare magari anche mille, oltre, ripeto, sono cifre messe lì così perché il calcolo esatto non potrà sapere mai nessuno. E quindi, però ovviamente mangiando un po' di più, proprio perché poi la situazione non sarà mai esatta, si tenderà anche a accumulare un po' di grasso, perché è normale, quindi avremo calorie in più che vanno a costruire questo muscolo, così l'organismo ha tutto quello che gli serve, ci sarà sempre un piccolo sovra più che probabilmente andrà a fargli ingrassare. E questo è del tutto fisiologico ed è tutto normale. Ovviamente non si parla di mangiare tantissimo e ingrassare tantissimo, però questa cosa è necessaria. Oltretutto tenete conto che l'aumento di peso corporeo in sé, di peso e di dimensione, che quindi avrete anche più acqua addosso, cioè più carboidrati, più acqua, quindi siete più gonfi, questo vi migliora automaticamente anche la forza, vi migliora un po' tutte le performance, quindi nel tempo il peso superiore vi tenderà a diventare più forti, non perché la forza sia direttamente correlata allo sviluppo della massa, però avere più forza, più pompaggio, anche più recupero è meglio e questo si verrà tradotto in anabolismo muscolare. Quindi l'aumento di peso è assolutamente indispensabile per aumentare le misure muscolari. Cioè detto più semplicemente, voi cosa pensate di fare? Poniamo che adesso ho pesato 80 kg, è un esempio, poniamo che adesso, vi dico dei numeri, facciamo un esempio, un tistio inizia a allenarsi in palestra, si sta allenando da un po' di tempo, pesa 80 kg, è alto un 80, mettiamolo così, un HP che poi in genere sia anche sotto, ma poniamo che non sia 80 kg. Vi siamo al 12% di grasso, che è anche una bella percentuale, abbastanza magro, e di braccio ci ha, mettiamo 35 cm, ok? Allora lui dice, io un domani voglio avere più muscolari, più muscolari, voglio un braccio da 45 cm, che è una bella ambizione da natura, guardate che 45 di braccio è tanta roba. Voi cosa pensate? Che un domani per avere quei 45 di braccio il peso rimarrà più o meno 80 kg, o qualche chiletto in più, cioè vi sembra possibile questa cosa, cioè pensate che il braccio possa crescere di tutti questi centimetri senza che il corpo rimanga uguale. Il corpo dovrà crescere tutto anche lui e il peso dovrà salire inevitabilmente, quindi per avere un 45 di braccio questo tistio dovrà pesare, al 12%, dovrà pesare almeno dai 90 ai 95 kg. Non so se mi spiego. Ovviamente non tutti in un anno, ma diluito nel tempo, massa dopo massa. Per cui se voi veramente credete di sviluppare misure muscolari, ma posso parlare anche di misure della gamba, o l'ampiezza dei deltori, qualsiasi cosa voi volete sviluppare, senza che il peso corporeo possa aumentare, e quindi mangiate poco perché volete evitare questa cosa, non andrete da nessuna parte, quantomeno da natura. Se vi fate le bombe, se vi fate le bombe, attenzione, se vi fate le bombe in realtà e poi il peso cresce, magari rimanete magri, questo sì, mentre sviluppate massa, ma comunque anche lì il peso cresce e non di poco, anzi con le bombe si guadagna tanto peso corporeo e misura i muscoli rimanendo magri. Ma è chiaro che quella è la risoluzione chimica della situazione, che sappiamo tutti che è assolutamente sbagliata in termini di salute, di illegalità e soprattutto di risultati che sono del tutto transitori, quindi non sapete già com'è la questione. Chiudo dicendo che se uno non mangia abbastanza e si allena anche abbastanza bene, il massimo che può ottenere è una ricomposizione corporea, nel senso che il peso più o meno rimane intatto, migliora la proporzione, fa massa magra e massa grassa, magari l'aspetto estetico migliora anche, però non si parla di avere un fisico da culturista grosso e pesante perché il peso semplicemente non si smuove. Ragazzi, se io peso 98 kg, sono 1,78 e quando vedete le mie foto do l'impressione del colosso che sono anche magro, è perché peso 98 kg, non so se mi spiego, se pesassi 80 kg che aspetto potrei avere? Quindi, teoria del conto in banca è la cosa migliore che un altro lo possa fare, è la teoria di Master, MWS, e dateci dentro, Master vi aspetta con lui per la vera gloria, la vera gloria. Ok, ok, esaurito l'argomento tecnico, veniamo a Luca Prado, ho visto il video, ho notato veramente, siccome ho detto l'altro giorno che Luca è diventato compulsivo, praticamente ogni, adesso ha detto che ha filmato anche quando lo operavano in pus, l'ascesso, cioè veramente è diventato compulsivo, qualsiasi cosa fa nella vita ormai è sotto video, anche questa cosa è da considerare, secondo me non in modo molto positivo, sì, vabbè, farai il visual, farai, però attenzione, questa cosa di mettere sempre in vista qualsiasi cosa fai, anche cose poco edificanti, perché secondo me, non so se lo farà, ma se veramente ha detto che si è ripreso mentre il chirurgo l'opera e lo fa vedere pubblicamente, per me questa è una cosa, non voglio usare certi termini, ma proprio mi sembra proprio esagerata il minimo, ecco, cioè pur di avere visualizzazioni si fanno vedere cose anche che non dovrebbero farsi vedere, ma mi fermo qua, veramente è diventato compulsivo in questa cosa, come altri che si fanno prendere la mano. Comunque, veniamo proprio al discorso, da quello che ho sentito, i malanni sarebbero nati da quando lui ha fatto questa mangiata di tonno, di sushi, tonno, insomma, che non si era mandato a male, questo gli ha creato dei problemi a livello gastrico che poi si sono evidenziati nei giorni dopo, è stato male, eccetera, eccetera. E ok, dopodiché il secondo fatto sarebbe questo ascesso pazzesco che ha avuto al gluteo, che tra l'altro ha detto che ne ha avuti altri due nelle spalle, quindi già questo vi fa capire com'è la tendenza. Allora, intanto io vi dico questo, lui nel titolo dice addio preparazione, io non credo che lui denuncerà la preparazione, non credo proprio, credo che la farà a prescindere, nonostante tutto direbbe di fermarsi, ma lui lo farà, questa è la mia previsione. Poi, adesso prima di andare avanti con le mie analisi, ovviamente, e dico ovviamente, io sono contento che è in via di guarigione, gli auguriamo il meglio per guarire, chiaramente non è che vogliamo il suo male, anzi, ma qui farò un discorso particolare, molto particolare, attenzione, tra poco ve lo farò. Quindi auguriamo a Luca di guarire, speriamo che stia migliorando, e bene così. Allora, io vi dico questo, la faccenda del tono del sushi, ok, ci può anche stare, che uno per un evento del genere possa star male, è capitato a tutti, a me no, perché non mangio mai pesce, non vado mai a mangiare i sushi, quindi a me questo, quantomeno, non capita, però può capitare, è che uno mangia in modo variato, e stia male, quindi fino a qui, uno dice, oh, che sfortuna, è sfortuna, sì, è sfortuna, vabbè. Ma guardate che tutto quello che è successo dopo, non è sfortuna, sono guai che uno si va a cercare letteralmente, cioè uno che si fa continuamente per sua stessa missione, perché si fa continuamente da anni punture, siringhe nelle spalle, nel sedere, dove volete, è chiaro che prima o poi queste cose, gli excessi, gli excessi succedono, perché se tu quando sei uno che si fa punture in modo seriale, prima o poi capita, e quindi questa cosa qui è capitata, ripeto, come lui aveva detto altre volte nelle spalle che è andata bene, questo è stato molto grosso, addirittura è stato operato, devo dire che è stato anche fortunato, fortunatamente, perché a volte queste cose qua, guardate che possono scatenare delle setticemie, che a volte sono anche mortali, non è che sto scherzando, sono anche pericolose, cioè se l'infezione rimane circoscritta lì, ed era anche bella tosta, in sé nella sfortuna è una fortuna perché rimane circoscritta, ma se si diffonde un organismo, che ripeto si scatena una setticemia, generalmente sono mortali, quindi è stato anche fortunato, come dire, il destino gli ha detto, guarda, anche questa volta ti è andata bene, questo è stato il segnale, quindi, ok, ovviamente adesso è stato operato, si riprenderà, però è chiaro che nel tempo continuando a farsi punture da tutte le parti, a destra manca, prima o poi questo problema potrebbe anche ritornare, non è che c'è perché, se uno poi insiste nelle cose che sono andate bene nella sfortuna, ma se tu insisti, non so, quindi già questo dovrebbe far pensare tante cose. Io quello che voglio dire è questo, ne ho letto anche i commenti, la maggior parte sono commenti del tipo, bravo, tu sei in gamba, continua così, così si fa, sei forte, sei un guerriero, ecco, poi ci sono i commenti di quelli che hanno detto, guarda che tu sei su una strada folle, hai avuto fortuna, ti puoi ancora fermare, stai attento, ma sei su una brutta strada. Allora, questo ultimo tipo di commenti, questo genere qui, sono stati pochi, due o tre, il resto sono tutti commenti, bravo, vai avanti così, sei forte, continua così, ecco perché lui si fa prendere della compulsione, perché gli dicono continua così, sei bravo, lui vede che la gente lo conforta, magari fa anche tante visualizzazioni, ma è entrato poi adesso in un loop che continuerà a fare questo, ma guardate che io dico una cosa, la gente che gli dice bravo, continua così, sei forte, secondo me non vogliono il bene di Luca, non lo vogliono, è il contrario, paradossalmente vogliono il suo male, perché gli dicono continua in questa follia, continua, noi ti seguiamo in questa follia, continua perché vogliamo vedere cosa succede, guardate che è implicito, non glielo dicono, ma loro gli dicono continuo perché, ma queste qui sono segnali di, non di benevolenza, di malevolenza, perché se tu inciti uno a continuare a fare cose sbagliate, non è che vuole il suo bene, mi sembra ovvio, così come qualcuno giustamente ha fatto una riflessione lucida e che ha detto, non capisco come la gente che ti stia accanto possa incoraggiarti in questa cosa, perché è del tutto assurdo, secondo me questa valutazione che è stata fatta, io concordo, per me è del tutto assurdo, perché io credo che se uno insiste in una strada sbagliata e c'è il supporto di chi gli sta vicino, ci saranno anche delle conivenze morali su tutto quello che succede, la vedo così, poi ho scelte libere che uno può fare, io ho conosciuto tanta gente, ripeto nel mio lavoro, io ho conosciuto, adesso non è il caso specifico, però ho conosciuto persone che avevano delle tossicodipendenze e chi gli stava vicino, anziché cercare di lavorare per farlo smettere, lo incoraggiavano, ho visto anche io queste cose, cioè assurdo, però è così, allora, ecco, mentre invece i commenti che gli vanno contro, che possono sembrare dei commenti, diciamo, non dico di dissing, però dei commenti che non vanno secondo il genere, che gli dicono no, guarda che tu sei un folle, stai sbagliando, ti è andata bene, ma non puoi continuare così, quelli sono i commenti di chi veramente vuole bene a quest'uomo, come io sempre gli ho detto, perché quando dicono che io, cioè io non è che gli dico queste cose, io glielo dico per il suo bene, quando uno gli dice, guarda che nei commenti, c'è un film che veramente, io mi sono anche permesso di commentare, ho scritto lucida valutazione, che è una mia fase classica, dove gli è stato detto che sei in una situazione senza via d'uscita, cioè c'è la via d'uscita, ma tu sei in un loop che se non ne esci può solo finire male, ecco, questo è il commento di una persona che vuole bene a questo ragazzo, questi sono i commenti veri, cioè se tu ti gli dicesse la stessa cosa, invece di fargli i complimenti, bravo continua così, forse qualcosa, qualche effetto potrebbe fare, mentre invece la tendenza è, bravo, sono un guerriero, un guerriero di che? Perché uno si fa un ascesso mentre si fa del doppio, ci viene un ascesso al gluteo, è un guerriero, non lo so, io veramente queste cose sono pazzesche, ecco, poi per cui questa è la situazione, chiudo dicendo un'altra cosa, chiudo dicendo un'altra cosa, e questo è veramente importante, questo è veramente importante, come lui stesso ha detto, ma si sapeva perché l'ha sempre detto, ha fatto alcun video sulla depressione, lui in tutte queste vicende in cui stava male, ha avuto delle crisi pazzesche di ansia, depressione, crisi di panico, ragazzi, guardate che questa situazione, io non so se voi vi rendete conto, o lui, o chi gli sta vicino, ma questa situazione è gravissima, uno che ha già sofferto di queste cose, che è predisposto e si va a mettere in una situazione di doping perenne, di rischio, che prima o poi malagna arrivano e quindi ovviamente ci saranno ospedali, problemi, cure, è una situazione di rischio assurda, è chiaro che l'ansia, depressione, crisi di panico sono dietro la porta, ma perché sta facendo uno stile di vita che lo porterà a questo, rischiare di continuo, capite l'assurdità della situazione, io spero, io non, dove purtroppo non è che non se ne rende conto, secondo me, ma non riesce proprio a uscirne, è dentro un loop, allora se uno è dentro un loop e non riesce a uscirne, chi è che dovrebbe, chi dovrebbe fare qualcosa per farlo uscire, chi gli sta vicino, o no, non lo so, se io avessi un parente o la mia compagna, faccio per dire, o chiunque a cui voglio bene, che è in una situazione di loop molto seria, grave, che si sta facendo del male e che se la fortuna l'ha assistito fino adesso non si sa fino a quando continuerà, io che cosa dovrei fare? Non dovrei far seccare di uscire a questo loop? o forse dovrei dire, no, continua così, vai che sei forte, dai, continuiamo, dai, continuiamo la preparazione, continua a assumere tutto, dai, dai, i nomi di che cosa poi, perché alla fine guardate che se poi le cose vanno male, tutto quello che si è fatto qui, anche il seguito che si ha di gente che ti dice bravo, continuo, quando poi capita qualche cosa di grave, è finito tutto, non conta più niente, non bisogna pensare, cioè bisogna pensare le cose veramente che contano nella vita, e quindi io, sì, chiudo sempre con questi discorsi che possono sembrare così troppo melensi o troppo, a me sembrano discorsi veramente onesti, logici, per cui non capisco veramente come si possa continuare su questa strada assolutamente folle, senza che lui non se ne rende conto, o se ne rende conto e comunque non riesce a smettere, ma senza che nessuno faccia qualcosa, perché ripeto, lui è stato anche veramente male, l'ha detto, ha detto ho avuto crisi di panico ragazzi, era terribile, stavo male, ma ho capito, stai male, ma questi guai qua, chi te li ha procurati? Tu, perché la città di sushi, quello può capitare, ci si riprende da un fatto gastrico, non è quello il punto, è tutto quello che c'è intorno, quello che c'è dietro, e poi ripeto, queste sono cose che sono anche finite abbastanza bene, anche se, ripeto, può essere rischioso, un ascesso può essere rischioso, ma è finita bene, ma potrebbe finire male, poi, non si sa che cosa succede veramente a lungo termine, ecco, non so cos'altro dire in una situazione assurda, però ribadisco e poi chiudo che chi lo esalta e chi lo incita in realtà fa il suo male, non gli vuole del bene, e secondo me molti di quelli lo incitano perché vogliono proprio vedere come va a finire, come diceva la canzone di Vasco Rossi, vogliono vedere come va a finire, loro vogliono vedere come va a finire, perché sanno che è una situazione di rischio continuo, e quindi non è vero affetto, per me è mala fede, mentre invece chi gli ha remato contro nei commenti, con critiche, questo è il vero voler bene a Luca, come gliene voglio io, e continuo a dirgli di uscire dal loop, e continuo a dire che chi è vicino a lui dovrebbe aiutarlo e non incoraggiarlo, questa è la mia opinione, poi come sempre nella vita le scelte si fanno, e azione e reazione, in base alle scelte, poi spesso le conseguenze sono quelle che sono, comunque facciamo gli auguri a Luca di guarigione ovviamente, sembra che sia sulla strada buona, cerca di guarire, speriamo che la fortuna continua a assisterti, che voglia di Dio che ti mantenga sempre in salute, e di campare il più a lungo più possibile, quindi auguri a Luca, ma io quello che dovevo dire ho detto, grazie a tutti, al top!